Ah, ma sto registrando adesso Quindi tutto quello che ho detto prima Non è stato registrato Vaffanculo Vaffanculo Cazzo Ho parlato della fame del mondo e di come risolverla Del problema di Youtube Italia e come risolverlo E non si è salvato Perché? Perché? Va bene Ho perso il mio cappello Che fine ha fatto il mio cappello? Non lo so Allora Aspetta, abbasso un po' la telecamera Allora Vi do un consiglio Cari Youtuber emergenti come me Se volete avere successo A volere una rilevanza sociale su Youtube Con i vostri commenti, i vostri video Insultate, diffamate i Youtuber grossi Perché se continuate a farlo Cari miei amici Youtuber Spero amici emergenti Lo Youtuber Big Fuori di commenti negativi sui suoi confronti Si incazzerà Perché è una persona come noi Anche noi ci incazziamo E anche lo Youtuber Big Si incazza Perché lo Youtuber Big Se tu lo insulti E' come una provocazione C'ha capito? Lui si incazza Si incazza Quindi è bellissimo E' bellissimo vedere Youtuber Big che si incazzano Mi eccita quasi un po' Mi eccita Mi eccita Mi eccita Si buonetti Mi ecciti Vabbè Dopo queste stronzate Posso dire che Con i nuovi video angolo Ho più format che video E chi se ne frega Chi se ne frega Cioè Mi facciano fare i format Più che i video Quindi Vabbè Ho i capelli un po' spettinati Anch'io non mi pettino Come mi stendi crista Volevo farmi la barba Però poi sembro un bimbo minchia Quindi poi mi verranno a criticare Perché i bimbo minchia Non possono fare i video Volevo precisare che un anno Sono un anno più vecchio di Di come si chiama quello lì Ah Andreani Sì 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 Anche se sembro un bimbo minchia Un anno più di Andreani Sono un ragazzo forzutto Sono muscoloso Sono figo E sono sfigato Sì Non so come definirmi Jody Roger Chi è Jody Roger? Jody Roger E' una testa di cazzo Che piace commentare Piace criticare Piace criticare più se stesso Forse ultimamente Perché lo trova molto egocentrico Nel suo paradosso Jody Roger È uno che non ha Un bel sorriso Jody Roger È uno che apparentemente Non è né bello Né brutto È un Jody Roger Cioè io Mi definisco un po' Un po' unico Nel mio essere Perché comunque Una persona un po' come me Non è ancora conosciuta Meno male Sennò la prenderei a pugni A calci Perché una persona come me È da odiare 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 Comunque Tutti quanti Tutti quanti Ho 45 iscritti Quindi Voi 45 iscritti Mi dovreste aiutare Perché Io devo continuare a fare i miei video Perché Uno youtuber bravo Per emergere Deve fare tantissimi video Tantissimi format E ho bisogno di gente di merda Ho bisogno di gente di merda Quindi Cari miei 45 iscritti Consigliatemi Chi sarà il futuro Gente di merda Per esempio Sì forse sto facendo finalmente Un discorso serio Vabbè Sto facendo un discorso serio Sono emozionato Va bene Non sorridere che poi sembri brutto Sì è vero Consigli per gente di merda Consigli per interviste fuori dalle masse Che cos'è interviste fuori dalle masse Io intervisto persone che hanno personalità Carattere Modo di agire Il verso degli altri Cioè insomma Una persona che Cazzo la guardi Dici cazzo quella lì È particolare Cazzo è particolare Che significa particolare Non lo so Non lo spiegherò nei miei video Cosa significa particolare Facendo le interviste appunto Fuori dalle masse Quindi c'è Ma comunque Tu Desdemona Che mi stai guardando Devi capire Che Sono È la tua castità Che genera le mie depravazioni Tu non muori per i tuoi peccati Muori per i miei Sì Sto impazzendo E sto ripassando quello che devo fare a teatro Perché Sto provando a fare a teatro anch'io Perché Chissà perché Non lo so Perché faccio teatro Perché faccio lo youtuber Perché dipingo Perché scrivo poesie Perché c'è un cazzo da fare Sinceramente Forse Forse perché puoi trovare Un qualcosa di me Che mi piaccia Insomma Vabbè Siamo già a cinque minuti e mezzo di video Taglierò questo video Farò solo le parti più divertenti Ma se le parti divertenti poi non ci sono Eh? Che fa... Perché lo devo fare sto video? Perché sto facendo questo video? Perché sto facendo questo video? Perché sto facendo questo video? Oh basta È rotto il cazzo È rotto È rotto il cazzo No Sto facendo questo video perché Molto probabilmente questo video si chiamerà Angolo di sfogo 2 Quindi Tutto quello che voglio dire Voglio dire Allora Una cosa che volevo dire A YouTube Italia Basta Basta Ma veramente basta Cari YouTube A fare critiche verso altri YouTuber Perché A me questo è un nuovo genere di YouTuber Che fa solo gossip Mi ha rotto il cazzo Cioè Fate i vostri video Fate Più attenzione Ai vostri contenuti personali Invece che le vostre critiche Che comunque sono sempre personali Però appunto Se vuoi fare una critica Ci deve essere un dibattito Se vuoi fare un dibattito Appunto Fai delle live Invece di stare nei tuoi video A fare 300 mia video Dove critichi quello lì Quell'altro Basta Cazzo Ma sono incoerente Perché Io faccio gente di merda Quindi anch'io critico Non lo sono meritato Vabbè No Mi manca un po' Cioè A volte rimango deluso Da alcuni YouTuber Che hanno iniziato Facendo un percorso Loro Interessante Dove Mostravano Tra virgolette Il loro talento Che potrebbe essere anche Trash E poi alla fine Sono andati a finire Sulle critiche Tipo Adesso non voglio fare nomi Ma Tipo Un certo Bozav Che fa tipo Fumettistica Adesso comincia A criticare anche lui Ma che palle Ho già Bonetti Ho già De Limello Ho già Mister Nichilista Che criticano le cose Basta Basta Avete rotto le palle Poi ci sono anch'io Che critico Quindi Non mi rubate il mestiere Ci mancherebbe Vabbè Sì Ho pochi capelli Sì Ho pochi capelli Sì Sono stempiato Sì Un po' come Mister Nichilista So che Mister Nichilista Sta bene anche pelato Io no Purtroppo Vabbè Come chiudere questo video Potrei insultarvi tutti Potrei leccarvi il culo a tutti Quindi dire Grazie Grazie I miei 45 iscritti Grazie Grazie Io la fica nel culo No Quello forse è meglio non dirlo Sarebbe un plagio artistico Dire la fica nel culo Appunto potrei incazzarmi Dicendomi Ho solo 45 iscritti Facce di merda Iscrivetevi al mio canale Sennò vi ammazzo Oppure potrei finire il video Dicendo una classica frase Che potrei dire solo io Tipo C'è chi dice Manzonna ragazzi Let's Penzola No Questa è zè Appunto colaggio Potrei dire Agonga Agonga Sì Gonga 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 Ah Sì potrei dire Gonga Allora Cari facebooker Cari youtuber Benvenuti al finale Di questo video Vi Jody Roger Vi saluta Tutti quanti Iscritti e non iscritti Al mio canale Mettete Mi piace La mia pagina facebook Che io La pagina facebook Non ce l'ho Mettete mi piace Ai video che non ho Ai video degli altri E soprattutto Agonga Ciao È geniale Sì Sì Sì